Ma questo fa parte del gioco, io credo che le critiche ci sono, ci saranno, ci sono state, credo che questa è una cosa normale, ho detto anche prima, non adesso, tutto è molto passionale, ma anche gli elogi, tante volte sono esagerati, non riesco a fare tutto questo né un dramma né una cosa straordinaria quando vinciamo, io cerco sempre questo equilibrio e quello che vivo oggi senza nessun problema. Io credo che la squadra ha già vissuto tante cose e la società ha già vissuto tante cose, credo che sia sicuramente molto esperta a tutte e due, tanto società quanto squadra, di quello che possa essere un momento di difficoltà. Dato di fatto Exxon sono state due sconfitte pesanti, più che altro determinanti o no, questo ancora non lo sappiamo, comunque matematicamente siamo in lotta, in campionato siamo in lotta, è vero che quello che rende più pesante un giudizio sono le due sconfitte per come sono state cose, diciamo così, importanti. Non c'è una disperazione da parte di nessuno, né la parte mia, né la parte dei giocatori, né la parte della società. La cosa non è neanche individuare il problema, è trovare la soluzione velocemente. Io sono sereno, il mio rapporto con il Presidente è chiaro, è sempre stato così, io sono arrivato qua per fare l'annatore, quando finirà questo mio percosa l'annatore non sarà più niente.